Alla fine la circolare dell'Inps arriva e così gli under 45 che non hanno contributi versati prima del 1996 potranno riscattare gli anni degli studi universitari. Per loro il governo ha pensato un onere agevolato ovvero all'incirca 5.200 euro per ogni anno. Al massimo si possono riscattare 5 annualità. Per un totale dunque di 26.000 euro all'incirca la circolare attua così il decreto su quota 100 e si rivolge a periodi precedenti il 29 gennaio del 2019. L'onere di riscatto può essere versato in un'unica soluzione oppure in un massimo di 60 rate mensili ciascuna di importo non inferiore a 30 euro senza applicazione di interessi per la rateizzazione. Tutto questo va fatto entro il 31 dicembre 2021 perché poi i termini scadono. I titoli riscattabili sono il diploma universitario, la laurea triennale, quadriennale o a ciclo unico, il diploma di specializzazione post laurea nonché il dottorato di ricerca. La circolare prevede anche la possibilità di riscattare periodi parziali più brevi rispetto alla durata legale del proprio corso di studio.